Il progetto RigenCup si pone l'obiettivo di migliorare l'efficienza e soprattutto la durata delle cappe di filtrazione e di purificazione aria che tutti noi abbiamo nei nostri ambienti domestici di studio o di lavoro. Si pone quindi all'interno della purificazione dell'aria indoor, tematica molto importante per tutti noi. Questa purificazione viene fatta solitamente con cappe di filtrazione che riescono a fermare le molecole sgradevoli, odoranti o tossiche facendole passare attraverso un filtro a carboneattive che riesce a intrappolare queste molecole, lasciando passare invece l'aria. La tecnologia è molto efficiente ma purtroppo ha un tempo di vita limitato, tant'è vero che bisogna sostituire questi filtri periodicamente. RigenCup vuole risolvere questo problema modificando il carboneattivo in modo chimico, lasciando inalterata la capacità di assorbire queste molecole, di intrappurarle, ma rendendolo capace, se attivato da una luce interna alla cappa a basso consumo energetico, di distruggere dopo ogni utilizzo queste molecole. Questo consentirà di avere tutti i giorni una cappa rinnovata, come nuova, grazie al fatto di aver distrutto e trasformato in composti del tutto innocue le molecole precedentemente assorbite. Il vantaggio sarà quindi quello di non dover più intervenire con manutenzione, di non dover più smaltire filtri esausti o rigenerarli, questo comporta anche dei grossi svantaggi di impatto ambientale e avere una cappa performante per lungo periodo.